Allora questa piccola, vai eccola, porta, te, 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 tieni, porta, porta, te, te, brava, porta, porta. E oggi mi avete accompagnato in questa avventura di caccia, abbiamo trovato una decina di guaglie, forse 10 o 11, i cani hanno fatto qualche errore ma come avete visto il territorio è diciamo misto, quindi abbiamo dell'erba, dello sporco, sporco con sotto pulito dove abbiamo anche ripreso, si vede che il cane va in ferma, poi le perde e gli partono a 10 metri che vanno via di petina. Sono contento perché quando abbiamo alzato il drone abbiamo visto la cagnolina che ha avvertito una guaglia, non ho ben capito se l'ha fermata o non, gliel'ho fatta incarnierare, così l'ha riportata, l'ha sentita. Questi sono i bracchi italiani, cani forse un po' troppo sottovalutati che però cerchiamo anche con questi documentari di far vedere a voi cacciatori per far capire che non esistono solo cani inglesi ma ci sono anche questa bellissima razza, Calliope che oggi è stata un po' pazzerella di quando Mirta ha cominciato a fermare parecchio, gli è andata un po' di gelosia, hanno bucato qualche consenso e di conseguenza qualche paio gli hanno andata via, però alla fine ci siamo divertiti. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata che spero di farla a beccacini. Grazie tante ragazzi. Grazie a tutti.